Avete mai sentito parlare dei 6 bisogni basilari dell'uomo secondo Anthony Robbins? Beh, forse sì, forse no, comunque ve li spiegherò adesso. Anthony Robbins ha fatto un passo in più. Nel suo ultimo libro, Il percorso, è andato a spiegare come questi 6 bisogni si applicano effettivamente alla finanza. Andiamo a vederli! Eh sì, Anthony Robbins non smette di sorprendere. Un altro malloppo, perché i suoi libri non vanno mai sotto le 500 pagine, in cui effettivamente con Peter Mallook ha scritto un vero e proprio capolavoro. Infatti, avvicinandolo di più, accelera il tuo viaggio verso la libertà finanziaria. Non potevo non parlarne in questo video, in questo canale. Più che altro ha scritto tantissime cose interessanti, quindi dovrò fare molti video per poterlo spiegare veramente bene. Vi consiglio di acquistarlo, perché comunque è un vero capolavoro. Oggi iniziamo a vedere i 6 bisogni basilari dell'uomo. Lui ne ha parlato già in altri libri, come ad esempio questo qui, come migliorare il proprio stato fisico, mentale e finanziario. Ma lì lo applicava essenzialmente alle nostre vite, alla vita di ognuno di noi. Nel percorso invece, lui effettivamente va ad applicarlo alla finanza e ci fa vedere come effettivamente questi bisogni incidono sulle nostre finanze, a volte in maniera molto molto deleteria. Quindi iniziamo subito. Bisogno di certezza. Che cosa si intende con certezza? Beh, sicurezza. Lo possiamo vedere nella vita di tutti i giorni, soprattutto in Italia, quando si va a cercare in maniera forte il posto fisso, perché è quello che conta, perché quello ti dà sicurezza. E la sicurezza purtroppo incide negativamente, non in questo caso, perché magari il posto fisso può essere una soluzione per molti, come ho detto in altri video, ma soprattutto nella gestione del nostro denaro, perché purtroppo esiste l'inflazione e quindi se noi non investiamo i nostri risparmi, in futuro potrebbero valere zero. Su questo ho fatto un video, che comunque ti linkerò qui sopra. L'inflazione può essere molto pericolosa, quindi stiamo attenti a quello che facciamo e cerchiamo di investire, anche con piccoli guadagni. Ma se non investiamo, i nostri risparmi di oggi non varranno allo stesso modo in futuro. Per spiegare in breve cos'è l'inflazione. Ciò che oggi noi acquistiamo con 10, domani potrebbe costare 15, quindi andiamo a perdere il nostro potere di acquisto. Attenzione alla sicurezza, perché può rovinare le vostre finanze. Come varietà e incertezza? Appena detto sicurezza, non solo contrari, no. Varietà e incertezza si intende che nelle nostre vite noi vogliamo varietà, vogliamo cose che cambiano, vogliamo emozioni. E come incide questo nelle vacanze? Pensate alla coppietta che pensa alle proprie vacanze e non va da spese. Dice dai andiamo lì alle Maldive, andiamo lì, cioè fanno dei super viaggi per poi rendersi conto che effettivamente il loro stipendio è quello che è. E quindi spendono la maggior parte di quello che riescono a mettere da parte in viaggi. Viaggiare è importante, perché ci permette di conoscere il mondo. Ma viaggiare con intelligenza, anche investire è importante, perché se non investiamo rischiamo il nostro futuro. In che senso? Soprattutto per chi è giovane probabilmente non avremo una pensione e lì sarà veramente un problema. O non l'avremo o l'avremo dopo i 70 anni, per capirci. Quindi mettiamoci a posto adesso, impariamo ad investire. Non si tratta di essere trader, si tratta di prendersi cura della propria vita. Ognuno di noi vuole essere speciale, unico e indimenticabile. Per farlo, ogni persona lo fa a modo suo. C'è chi comunque vuole fare carriera, chi vuole contribuire al prossimo e chi invece lo fa in maniera non tanto produttiva. Ad esempio acquistando tantissime cose di valore, vestiti, borse, quello che sia, non importa. Perché in quel modo dai un marchio a te stesso. In quel modo ti dai un significato. Il significato è che tu sei importante perché acquisti cose di valore. Molto spesso indebitandoti o facendolo appunto con una cattiva gestione del denaro. Quindi molta attenzione. Il significato si può trovare in tanti e tanti altri modi. Cerchiamo di non fare stupidaggini. Amore e connessione. Beh, è bellissimo. Cosa c'è di male in tutto questo? Nelle nostre finanze potrebbe esserci. In che senso? In che modo vuoi amare e connetterti? Lo si può fare in un milione di modi. Sempre aiutando e facendo in modo di stare vicino a una persona. Ma immaginate quelle belle coppiette che si fanno in continuazione dei regali costosissimi. E fanno a gara chi spende di più. Non sarebbe meglio con quei soldi fare un qualcosa di diverso? I regali ci stanno. Ma non è il valore del regalo a mantenere la connessione e il pensiero del regalo. Questo è un esempio un po' banale. Ma per capirci ci sono tanti modi in cui si spendono una varia di soldi soltanto per avere amore e connessione. O pensiamo a chi effettivamente affide il proprio denaro a un amico del liceo a un amico universitario al vicino di casa perché comunque inconsciamente non vuole che lui ci rimanga male. Quando poi state mettendo pericolo un pericolo al vostro denaro perché effettivamente magari questa persona è incompetente. Se è competente dateglielo pure. Dateglielo secondo la legge. I primi quattro bisogni possono incidere negativamente sulle nostre finanze. Gli ultimi due effettivamente no. Possono avere soltanto un aspetto positivo sia per le nostre finanze nel lungo termine che è proprio per il mondo. Il primo è la crescita. Quindi il quinto. Il primo positivo diciamo è la crescita. Quindi il voler crescere. Voler migliorarsi. Questo lo si può fare investendo su se stessi. Investendo il proprio tempo. Anche quello è un modo per crescere. E perché è importante? Perché effettivamente noi ok spendiamo soldi per la nostra crescita che molto spesso comunque ritornerà a questa ricchezza. ma poi possiamo condividerla. Condividere sia la nostra ricchezza che le nostre conoscenze che il nostro tempo. Quindi la crescita è un bisogno basilare dell'uomo che non incide negativamente sulle nostre finanze. Anzi ci permette di diventare delle persone migliori. Sfruttiamola a nostro vantaggio. Infine il contributo. Ne abbiamo già parlato nella crescita pochi secondi fa. Perché effettivamente se noi cresciamo andiamo a condividerle. E condividendole le nostre conoscenze il nostro denaro il nostro tempo effettivamente andiamo a dare un contributo al mondo. Noi sentiamo il bisogno di contribuire a chi è meno fortunato di noi. E questo nel lungo termine ci porta anche ulteriore ricchezza. Non è questo l'obiettivo del donare dell'aiutare del contribuire. Bisogna farlo liberamente ma scientificamente provato che se tu doni se tu aiuti se tu contribuisci tutto ti ritornerà. Sembra molto una legge di attrazione chiamiamola così chiamiamola come vogliamo ma effettivamente ci permette di migliorare la nostra vita e di dare un significato alla nostra vita ricollegandoci a uno dei dei punti precedenti. Perciò contribuite. Questi erano i sei bisogni di Anthony Robbins da lui inseriti in questo libro per collegarli alla finanza. Vi consiglio caldamente il libro e soprattutto vi consiglio di seguirmi nel gruppo Trader in 100 giorni in cui è stato pubblicato anche questo video oltre che su YouTube e vi consiglio di seguire tutti i post perché ci sono dei contenuti di valore che su YouTube non verranno mai e poi mai messi. Detto questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti i nostri spettatori